una sola uscita. Era completamente buia. James si mette vicino all'entrata e all'uscita in modo da poter controllare i corsisti, portando con sé una bella scorta d'acqua e alcuni integratori alimentari, cosa che non ha detto e non ha consigliato agli altri, ai corsisti. A questo punto inizia a fare dei canti tradizionali americani e a chiedere che vengano portate le prime pietre all'interno della fossa. Non appena le pietre vengono portate, James inizia a versare dell'acqua sulle pietre che sono rosse, fin troppo roventi. Cosa succede quindi a questo punto? I partecipanti vengono letteralmente investiti da un'ondata di vapore rovente che impedisce loro di respirare, che brucia loro la pelle, che letteralmente li sciocca facendo dire loro no, 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 questa non è un'esperienza che voglio fare, se continua così va a finire male, va a finire male, va a finire male. Però il nostro James dice potete andare oltre questo, vi potete fidare, potete andare oltre quelli che sono i limiti della vostra mente, dovete rimanere fino all'ultimo perché solo all'ultimo sperimenterete la libertà di essere diventati degli spiritual warrior. E finisce così il primo atto durante il quale un paio di persone escono dalla tenda e vengono accolte da Melinda che è una delle assistenti, una del dream team e queste persone dicono letteralmente this is bad, this is bad, I feel like I'm going to die, this is bad, I don't want to try it, this is bad, cioè non voglio provare questa cosa, mi sembra di morire, non voglio provare, ma vengono invitate a rientrare all'interno. Beverly dice che durante il secondo round ogni round durava 15 minuti, durante il secondo round un uomo si è alzato all'interno della tenda e ha cominciato a gattonare intorno come se fosse impazzito, intorno alla buca delle pietre calde dove ne erano state aggiunte altre ed era a quel punto diventato chiaro a tutti che questo era davvero una brutta prova, una prova troppo pesante. Arrivati al quarto round, quindi siamo intorno all'ora all'interno di questa di questa tenda sudatoria, il calore era così intenso e la mancanza d'aria così forte che Beverly e altri avevano a quel punto deciso di mollare tutto e di uscire. Beverly si rivolge a James e gli dice ho bisogno di uscire e altre persone stanno dicendo questo, non lo vedi? Ma James risponde puoi andare tranquillamente attraverso questo, è la mente che vince sul corpo, ignora totalmente che cosa il corpo si sta dicendo, ascolta solo la tua mente. Durante questo quinto round un uomo totalmente disorientato dal calore che stava crescendo e ricordiamoci che i nativi americani mettono 12 pietre rotonde all'interno della fossa, James alla fine della cerimonia ne avrà messe ben più di 60. Durante questo quinto round quindi questo questo uomo totalmente disorientato cerca di uscire dalla dalla tenda, camminando e gattonando quindi intorno alla fossa, ma a un certo punto perde l'equilibrio, cade sopra le pietre roventi ustionandosi le braccia. A quel punto esce dalla tenda e Melinda dice che ha cominciato a urlare non voglio morire, non voglio morire, salvatemi, salvatemi, non voglio morire. Allora Melinda dice guarda che non stai per morire, vieni qui, siediti, io adesso prenderò delle bende, cercherò di curarti, soprattutto ora comincia a bere dell'acqua perché sei estremamente disidatato, ma quest'uomo disse no no, assolutamente, io sono votato a questo percorso, devo farlo fino alla fine, devo rientrare. Melinda dice no, guarda che non devi rientrare, non sei affatto obbligato, ma lui preso da questa smania, con le braccia totalmente ustionate, Melinda dice che la pelle letteralmente pendeva dai suoi polsi, rientra nella tenda per il sesto, settimo e ottavo round. A quel punto Beverly dice che le persone iniziarono a vomitare. lei dice ho visto una donna totalmente senza, che ha perso i sensi, portata, trascinata fuori dalla tenda e a quel punto il nostro James, il nostro James Shore, che aveva aiutato a portare la donna fuori, torna al suo posto vicino a Kirby, la osserva e comincia a urlare, non sta più respirando, Kirby non sta più respirando, non bisogna farla stare lì, bisogna farla muovere, bisogna portarla fuori. Tutte le persone intorno si stavano agitando e urlando preoccupate. James a questo punto diventa veramente odioso, diventa arrogante, preso dalla collera più rovente e dice tutti zitti, io sono il responsabile per ognuno di voi qui, le porte sono chiuse ora e questo round è appena iniziato e quindi noi andremo avanti fino alla fine del prossimo round. James continua quindi la cerimonia per tutti gli otto round, continuando a sgridare severamente, ammonire le persone a non uscire dalla tenda. Alla fine dell'ottavo round, dopo circa due ore, era ovvio che la tenda sudatoria, che doveva essere un'esperienza trasformazionale di James, è diventata una tragedia. Un largo numero di persone giace semisvenuto fuori, altre vengono tirate fuori dalla tenda, vomitando ed emettendo schiuma dalla bocca. A questo punto Beverly racconta, c'era una donna davanti a me, totalmente priva di sensi. La stavamo portando e tirando fuori dalla tenda e portandola verso la porta e in quel momento sono passata vicino a Kirby e ho sentito che Kirby era come se stesse russando, stava emettendo un suono molto strano dalla bocca e dal naso, come un sordo gorgoglio. Non sapevo se era svenuta o se si era addormentata, però era molto strano questo suono, questo russare, questo gorgoglio. Una volta uscita vidi una donna chiamata Sydney, che era sdraiata di fianco, che respirava fatica, a malapena, non rispondendo a niente e a nessuno. La girai sulla schiena e vidi che i suoi occhi erano ruotati all'interno, quindi mostravano il bianco. Una grossa quantità di muco fuoriusciva dal naso e dalla bocca. Un sacco di persone non poteva muoversi e non poteva quasi a malapena respirare. Tutte le loro abilità motorie erano completamente andate. Quindi vidi un'altra donna e anche lei era totalmente svenuta. Nessuno era con lei e le sue braccia stavano diventando blu. Iniziai ad aiutarla e la girai prima sulla pancia, poi di nuovo sulla schiena e i suoi occhi, anche in questo caso, erano ruotati all'interno e mostravano il bianco. Per fortuna stava ancora respirando. Allora mi mossi verso un'altra persona e questa persona aveva completamente perso i sensi. Lo girai sulla fronte e stava ancora respirando, ma non appena aprì gli occhi un getto di sangue uscì dalle palpebre e in pratica tutti i capillari erano letteralmente esplosi. Un uomo girava gridando, ho avuto un attacco di cuore, ho avuto un attacco di cuore ed era come un manichino impazzito. Beverly racconta anche questa cosa, perché questa esperienza evidentemente è andata troppo oltre. Questa donna stava gridando, James Ray, voglio scopare James Ray. James, perché questo è successo? James, ti amo, voglio scoparti. Era letteralmente uscita di testa. Le persone la stavano letteralmente trattenendo per le braccia e per le gambe, perché si agitava come se fosse indemoniata. E infine Beverly va verso Kirby, ma purtroppo non ha trovato alcun segno di vita. Kirby, esattamente come James e come Leeds, era rimasta all'interno della tenda per tutto il tempo, quindi per tutte le due ore e anche oltre. Quando viene tirata fuori, sia Kirby che James hanno uno stato disperato. Letteralmente sono stati cotti a morte. La temperatura all'interno della tenda, alla fine dell'ottavo e ultimo round, aveva toccato i 130 gradi. Qualcosa di inimmaginabile. A quel punto Beverly prova la rianimazione, quindi prova sia la respirazione bocca a bocca che il massaggio cardiaco. Ma sia lei, sia Kirby che James non respiravano ed emettevano schiuma dalla bocca e erano diventati parzialmente blu e parzialmente color porpora. In tutto questo James che cosa fa? James esce dalla tenda dopo aver bevuto un bel po' di acqua e dopo aver preso i suoi integratori. Guarda verso chi stava facendo rianimazione a Kirby e a James e dice Beverly ci guardava come se avesse nessuna espressione sulla sua faccia. L'ho visto addirittura stiracchiarsi con profonda soddisfazione e congratularsi con se stesso per la magnifica riuscita di questa esperienza, ma per il fatto di dare una mano per aiutare le persone che stavano male, non mosse assolutamente un dito. Lui non aiutò nessuno, non fece assolutamente niente, semplicemente rimase lì. A questo punto Beverly chiama il 911. 9-1-1, dove è la tua emergencia? 13850, Angel Valley Road. Ok, qual'è il problema? Due persone, non sono fredde, non sono fredde. Non sono fredde? Sì. Ok, è questo il risultato di una shooting o qualcosa? No, è un risultato di una risultata di un risultato 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 di umano. qualcuno anche di terzo grado, compreso l'uomo che cadde nel bracere ardente. Ma soprattutto c'è questo, che Kirby Brown e James Shore sono morti. Liz Neumann, l'angelo del Dream Team che era entrata nella tenda per aiutare le persone a raggiungere i loro obiettivi, fu portata al più vicino ospedale dove rimase in coma per più di una settimana. Dopodiché anche lei morì. Tutte le autopsie hanno attribuito la morte a calore estremo e totale...